Ciao ragazzi bentornati. Allora oggi volevo parlare un po' della costruzione di un'ipotetica coreografia nuova. Perché dico questo? Perché soprattutto quando lavoro all'estero tante coppie mi dicono tu sei italiano mi fai un tango nuovo. Allora con tutta la buona volontà io potrei farlo a chiunque un tango nuovo, un quick step nuovo, un zamba più veloce. Il problema qual è? Non conosco questa coppia, non conosco le abilità, non conosco le problematiche che ho con questa coppia. Quindi come faccio ad andare a costruire una coreografia efficiente? Perché costruire una coreografia è facile. Mettiamo un insieme di passi, rispettiamo il precede e il segue di ogni singola figurazione, ci regoliamo più o meno a un tot minutaggio della musica e abbiamo fatto. Però so io se questa coppia avrà difficoltà oppure no a ballarla? Oppure so se questa coreografia può essere adatto a questo tipo di coppia che io non conosco? Queste sono tutti i punti di domanda che io mi pongo ogni volta che vado a lavorare con una coppia nuova. Al che ho sviluppato diciamo una sorta di metodologia efficace ed efficiente. Grazie all'utilizzo della videoanalisi e grazie all'ausilio di queste sue lette proprio eccettive che ho collaborato per la realizzazione vado a fare prima un'analisi della camminata basica di una persona. In base alle difficoltà che vado a riscontrare attraverso quest'analisi mi accorgo se la persona, in questo caso l'uomo o la donna ha più difficoltà a camminare, più difficoltà a deambulare sulla gamba destra o sulla gamba sinistra, se la postura è corretta oppure no, se le misure antropometriche sono idonee oppure no. Una volta che ho questo vado a fare un benchmark, ossia vado a costruire una, diciamo, una media tra le specifiche e problematiche dell'uno e specifiche e problematiche dell'altra, quindi dell'uomo e della donna. E una volta messi in mezzo andiamo a combinare quello che abbiamo. Con quei dati che abbiamo trovati andiamo a costruire una coreografia. cosa voglio dire? Facendo l'analisi ad una coppia ho notato che questa dama aveva difficoltà a camminare in modo corretto con la gamba destra. Quindi vuol dire che, avendo difficoltà con la gamba destra, tutte le figurazioni verso sinistra, perché la coppia è gestita sempre dalla fronte dell'uomo, quindi la figurazione a sinistra, vuol dire che la dama partirà con la gamba destra prima. E dovendo attraversare il corpo dell'uomo e poi andare a effettuare la figurazione verso sinistra, sarà sempre problematica, perché questa dama aveva problemi con la gamba destra. Quindi cosa ho fatto? Ho sviluppato una coreografia con la maggioranza delle figurazioni verso destra, in modo da facilitare le abilità principali di questa coppia. perché non sono mai dell'idea che io ti metto questa figura, tu la lavori e man mano la migliori. No, perché purtroppo l'uomo o la donna, essendo macchine speciali, il corpo umano essendo la macchina perfetta, che cosa va a fare? Non andrà mai a trasmettere la difficoltà al suo sistema, bensì andrà ad utilizzare la comodità che ha per affrontare quella determinata figura. Quindi se la donna o l'uomo hanno difficoltà a fare quella determinata figura, il corpo troverà la miglior strategia per fare quella figura, ma non vuol dire che quella figura sarà fatta nel modo perfetto. Quindi che cosa faccio io? Abbino sempre il range di figure migliori da poter utilizzare in quella determinata condizione. Man mano che ballando quelle figure, l'uomo o la donna andranno a migliorare le proprie competenze, sia di equilibrio, sia di gestione dei piedi tra destra e sinistra, sia la pulizia del movimento dei piedi degli arti superiori o inferiori, vado a modificare quella figurazione, vado a modificare l'amalgamazione di quello che ha a disposizione. In questo modo vado a gestire più o meno una coreografia con un 70% di movimento progressivo di propulsione e solo un 30% di rotazione, perché come ho detto in un video di qualche tempo fa, se devi girare senza muovere è meglio che muovi senza girare. E quindi con un 70% di progressione ed un 30% di rotazione, e questo 30% andarlo a dividere anche tra destra e sinistra in base alle specifiche caratteristiche della coppia in oggetto, andiamo a creare l'amalgamazione migliore e andiamo a rendere il lavoro per la coppia il più efficiente ed efficace possibile. In bocca al lupo a voi!